Nell'ambito della pluriannale collaborazione tra le due realtà, ConfCommercio è al fianco dell'Associazione Consulenza Famiglia, oggi alle prese con il cambio di sede e la riorganizzazione delle attività. Da qui l'idea per sostenere gli sforzi dell'Associazione di lanciare la campagna di crowdfunding Una Nuova Casa per l'ACF attraverso la piattaforma Eppela. L'iniziativa è stata presentata nella sede di ConfCommercio Lucca dalla direttrice Sara Giovannini, il presidente Rodolfo Pasquini e la presidente dell'Associazione Patrizia Giannoni. Attiva da oltre 30 anni sul nostro territorio, soprattutto attraverso il consultorio, l'associazione Famiglia si trova costretta a dover ripartire mantenendo la qualità dei servizi e la vicinanza ai soggetti bisognosi. Ecco quindi l'invito all'imprenditoria lucchese a dare il proprio supporto a questa realtà.